Ieri, 22 agosto 2017, Libro pubblica un articolo in cui lo scrittore importante, famoso e conosciuto in ogni parte del mondo, dice che la fine del mondo ci sarà il 23 settembre, riferendosi appunto a quanto riporto dalla Bibbia, e qua spiega, nell'articolo, i motivi che l'hanno indotto a pensare che quella data sarà quella fatifica della fine del mondo, così come hanno fatto d'altronde altri personaggi importanti e famosi, ultimamente di cui i giornali hanno parlato e riferito le date in cui potrebbe esserci o verificarsi la fine del mondo o di questa era. Però sfugge a tutti un particolare più semplice ma importante, quasi forse quello che indica maggiormente o si avvicina con certezza alla data della fine del mondo e come essa verrà. È sufficiente tornare indietro di cento anni a quello che successe ai pastorelli di Fatima nel periodo del 13 maggio al 13 ottobre 2017, dove i numeri, esempio il 13, il 3, il 30, parlano e indicano quella che potrebbe essere la data reale della fine di questo tempo, della fine del mondo, di questa realtà. Una fine comunque, come avverrà, sembra che sia già scritto nella profezia stessa. I tre pastorelli di Fatima videro per la prima volta la Madonna, come fu definita da loro. Comunque sia una manifestazione oltredimensionale, o di una dimensione superiore, comunque la si voglia chiamare o definire. Ecco, ma videro questa luce che formava, come disse appunto Lucia, l'immagine della Madonna il 13 maggio ottobre 2017. E la cosa si ripete per sei volte fino al 13 ottobre 1917 ogni 13 del mese e, come è evidente, solo ogni 30 giorni. Ecco, noi vediamo tre pastorelli, vediamo il 13 ottobre, il 13 ottobre 2019 e l'anno 1917, oggi siamo nel 2017. Soprattutto poi le sei apparizioni da maggio a ottobre. Sei che che indica appunto gli anni, questi ultimi anni, in cui avvenimenti straordinari espressi dalla natura hanno, si sono manifestati in ogni parte del mondo. E comunque poi torneremo a questo fatto che indica il tempo il tempo del terzo segreto di Fatima. Ma tornando ai tre pastorelli, bisogna evidenziare una cosa, che i tre pastorelli videro sempre un'immagine positiva nella luce. Come dissero, videro la Madonna tranquilla, serena, che le rassicurava, bella per cui un'immagine positiva. Diversamente da quello che però videro col miracolo del sole, le 30, le 40, le 50 mila, alcuni dicono 70 mila persone presenti poi l'ultimo giorno. E andiamo a vedere questo fatto. Ecco, l'ultimo giorno si dice che una folla di circa 70 mila persone videro il miracolo del sole. E qua l'articolo fa un resoconto di quello che successe in quel momento. Difatti, riporta la testimonianza del dottor Almeida, Garrett, che disse, come qua riportato nell'articolo, che improvvisamente il sole iniziò a rischiarare tra le nuvole che coprivano il cielo sotto una pioggia abbattente. Poi il sole apparire come un disco chiarissimo, con contorni nitidi, che splendeva senza offendere la vista. Non poteva essere confuso il sole attraverso la nebbia, perché in quel momento si era schiarito tutto si era schiarito tutto e si veda benissimo. Però il sole iniziò a cambiare colore e a ruotare, divenendo poi al termine rosso. E dicono i testimoni, sembrava che precipitasse contro la terra ed ebbero paura, spavento. Ecco, qua si evidenzia la fine. Dal cielo, in questo caso il sole, trasformato come raccontano, che si scaglia contro la terra e se non si fermava avrebbe distrutto la terra stessa. Ecco, la profezia ti dice già esattamente cosa potrà succedere alla fine dei tempi. Quando? Quando? L'ultima volta che la Madonna apparve tra i pastorelli, il 17 ottobre. Poi però raccontano che improvvisamente il sole si fermò, perché è stato solo unicamente un segno, un modo di evidenziare come il mondo potrebbe venire distrutto alla fine dei tempi. Quello che poi viene raccontato nel terzo segreto di Fatima. Qua poi c'è il racconto del Vescovo di allora, che disse che fu una visione stupenda, fuori dal normale, meravigliosa per tutti coloro che erano presenti. Perché quell'episodio non fu, come riporta l'articolo qua, rivelato da nessun osservatorio, per cui tutto era normale, tranne lì, ecco, la visione globale a quelle 70.000 persone che indicava, non faceva vedere la Madonna come tre pastorelli, ma la punizione alla fine dei tempi che avrebbe vissuto l'umanità. Qua abbiamo solo alcune immagini dell'epoca, di quando avvenne il miracolo del sole, ma quel miracolo nascondeva la punizione stessa o come sarebbe avvenuta la probabile fine del mondo che sembra si stia avvicinando in questi tempi. Come infatti stanno dimostrando da sei anni a questa parte. E così altri articoli di giornali dell'epoca riportano che in tanti hanno visto il vortice nel sole. Ecco, per cui si evidenzia che cosa? La straordinaria espressione extradimensionale che tutti hanno visto e che indicava come sarebbe potuta avvenire la fine. Allora fu solo un avvertimento perché il sole poi venne fermato, o ciò che sembrava per queste 70.000 persone il sole. E questo è la cosa più importante. Ciò che hanno visto è ciò che poi succederà. E come riporta questa immagine, sono in molti comunque sia aver capito che il terzo segreto di Fatima si sta avverando. E i fatti lo dimostrano, come detto all'inizio, da sei anni. Iniziando dal 2011, quando le trombe dell'Apocalisse iniziarono ad essere udite in ogni parte del mondo. E come già spiegato, era il sole che attraverso le sue esplosioni e per cui la sua energia potentissima attraversava e riempiva il centro della terra, che poi scaricava, svuotava questa energia facendo sentire quelle che venivano definite le trombe dell'Apocalisse, ma erano le urla, la voce della terra, come è stato anche documentato e spiegato dagli esperti in materia. E la fine potrebbe essere, come indicata nella profezia, nell'ultima apparizione, il 13 ottobre 2017. Dopo sei anni di inquietanti segni premonitori, perché così come il sole le 70.000 persone l'hanno visto cambiare coloro diventando rosso, moltissimi fiumi in ogni parte del mondo sono diventati coloro del sangue. Quasi indicare, come dice il terzo segreto di Fatima, la quantità di sangue che verrà versato alla fine dei tempi. Un breve piccolo accenno appunto per dire, come racconta qua l'articolo, che la Madonna tranquillizzava, diceva non abbiate paura tra i pastorelli, non voglio farvi il male. Ecco, la Madonna tranquillizzava i tre pastorelli, ma solo loro la vedevano. Diversamente le 70.000 persone che hanno visto ruotare il sole, cambiare il colore, e poi precipitare e scagliarsi sulla terra, ebbero paura in quel momento. Terrore nel vedere che stava scagliandosi o precipitando sulla terra. Ecco, la profezia della fine del mondo è in questo piccolo frangente, i minuti in cui il sole precipitava sulla terra e se avesse continuato avrebbe distrutto la terra, quello che potrebbe succedere il 13 ottobre del 2017. Senza dimenticare che il periodo dal 1950, anche quando Papa Pio XII vide lo stesso sole che si muoveva in Vaticano, come riportano poi alcuni articoli giornali, ecco, comunque dal 1950 in poi c'è stato un periodo d'oro per gli uomini, di progresso, benessere, successo, canzoni e gioia, ricchezza e soprattutto spensieratezza, che comunque si è terminato da sei anni come evidenziano l'eclissi sopra all'immagine sei sette e poi al centro della profezia del terzo segreto di Fatima che va come dicono appunto gli stessi vigenti o anzi il mistico americano che ha rivelato poco tempo fa la visione nel sonno derivata da un'ispirazione divina disse che andrà dal 13 maggio al 13 ottobre il periodo in cui potrà scoppiare la terza guerra nucleare e pertanto anche l'ultima per cui il sole nero è al centro di questa profezia che stiamo vivendo l'abbiamo visto il 21 agosto al centro della profezia non resta che aspettare mancano poco più di 50 giorni e poi i fatti parleranno fatti che comunque erano già stati scritti sul blog Eclissi della vita il 5 ottobre del 2016 che evidenziano in un modo o nell'altro la fine del mondo in quanto essa è solo una logica conclusione del progetto uomo definitivamente fallito grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti